Salve amici del Centro Meteo Italiano. Maggiori schiarite nella seconda parte della settimana ma precipitazioni sempre dietro l'angolo. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 18 maggio. Deboli fenomeni al mattino sui settori peninsulari del sud, variabili ad asciutta altrove. Al pomeriggio acquazioni sparsi su Alpi e zone interne del centro-sud e localmente anche a carattere di temporale. In serata e nottata condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole in transito. Deboli piogge su Alpi e Sardegna. Temperature minime in generale diminuzione e massime in rialzo da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.